L'Università della Terza Età e del Tempo Libero è una bella realtà culturale che opera Giulianova e non solo. Fra i nostri iscritti, ormai abbiamo raggiunto quasi 170, ci sono anche tanti che provengono dai paesi limitrofi, Roseto, Musciano, Tortoretto, Albadriattica, Notaresco, Bellante, Corropoli e anche Montorio. Organizziamo tante attività, fra queste due lezioni settimanali, lezioni conferenze settimanali, sugli in più svariati argomenti, letteratura, musica, arte, medicina, storia, realtà locale, attualità. Sono tutti argomenti di interesse personale e generale a cui partecipano in modo rilevante quasi tutti i soci. Oltre alle lezioni settimanali, organizziamo in collaborazione con la società Riccitelli di Teramo la partecipazione alla stagione teatrale della società stessa. Gestiamo ben 150 abbonamenti che hanno uno sconto particolare e i soci possono partecipare, ed è gratuito, il trasferimento da Giulianova a Teramo. Oltre all'attività teatrale a Teramo, partecipiamo anche ad attività culturale a Roma, al Teatro Marrocini di Chiedi. Organizziamo anche diversi viaggi di istruzione, viaggi sul territorio per conoscere la realtà nostra, Teramana e Limitrofa, ma anche per conoscere altre città d'Italia. E a giugno, in genere, avviene anche un viaggio nei paesi europei. Oltre a questo, abbiamo tante manifestazioni che sono dei momenti socializzanti, dei momenti di convivenza e di convivialità che fanno tanto bene ai soci.